Per disporre di nuovi e consistenti capitali le mafie fanno cassa con i profitti derivanti dalla droga. La mafia siciliana poi sta cercando di recuperare un ruolo di primo piano nel traffico di stupefacenti internazionale. È quanto emerge dall'indagine condotta nell'ambito del progetto internazionale Illegal Flow Observation della Fondazione Rocco Chinnici in partenariato con le Università di Palermo e Salamanca. Necessario dunque affinare le tecniche investigative e adeguare la normativa per contrastare il narcotraffico, le cui maglie diventano sempre più estese. Nell'ambito del progetto infatti sono stati formati 134 operatori di polizia italiani e spagnoli.